La trasmissione L'Isola dei famosi 2024 ha intrapreso un percorso inatteso, conseguenza diretta del nuovo corso inaugurato da Pier Silvio Berlusconi. L'attuale edizione del celebre reality show si distingue per l'assenza di clemenza nei confronti dei suoi partecipanti, qualsiasi deviazione dalle regole, sia essa un litigio acceso o un atteggiamento di ribellione, viene sanzionata con l'espulsione immediata, spesso presentata come una rinuncia volontaria, nel caso in cui il concorrente non si ritiri spontaneamente, come è accaduto a Francesco Benigno. Viene escluso senza remore e senza apparente giustificazione, se non per aver avuto contrasti con Peppe di Napoli. Questo nuovo modus operandi ha indubbiamente introdotto un'aura di artificio nel contesto del reality, con le decisioni della produzione che sembrano influenzare in maniera determinante l'evoluzione del gioco. Benigno ha dimostrato un encomiabile coraggio nell'opporsi alle richieste degli addetti ai lavori, rifiutandosi di abbandonare il programma. Tuttavia, nonostante il suo gesto di fierezza, è stato escluso ingiustamente, gettando ombre di dubbio sull'equità e sulla trasparenza del processo decisionale. In questo scenario, sorge spontanea l'interrogativo se sia davvero opportuno per gli spettatori investire risorse economiche nel votare durante le fasi di eliminazione, considerando che le direttive sembrano essere state stabilite in anticipo. Con l'Isola dei Famosi che si trasforma progressivamente in una rappresentazione televisiva, è lecito dubitare della genuinità e della correttezza della competizione.